Siamo sempre sulla cronaca, si indaga sulle cause dell'incendio scoppiato sul Monte Santa Croce a Venafro. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella della natura dolosa, ma andiamo a vedere. Sono in corso accertamenti di indagini per capire la natura dell'incendio boschivo che a Venafro ha devastato 36 ettari di bosco e che pare sia di natura dolosa. Il ruogo è partito ieri pomeriggio da Monte Santa Croce e si è steso successivamente nelle aree circostanti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che dopo ore di lavoro sono riusciti nella notte a spegnere le fiamme, mettendo al sicuro le zone abitate che si trovano nelle vicinanze. Per domare l'incendio nei punti più alti, irraggiungibili via terra, è stato necessario l'impiego dei mezzi aerei. Come ogni anno, durante il periodo estivo, complici le temperature elevate, bisogna fare i conti con l'emergenza incendi e con l'ennesima perdita di preziose aree di bosco.